Oh Fede, 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 oh Fede, ti ricordi quando facevamo Radio Vitelloni? No. Ma come no? Ma come no? Ti ricordi quando facciamo Radio Vitelloni? Sì, me lo ricordo. E ti piaceva, ti piaceva Radio Vitelloni? Dai. No. Ma come no? Vabbè, almeno ti divertiva, ti divertiva fare Radio Vitelloni? Dai, ti divertiva almeno. No. Ma come no? Ma allora perché lo facevi, scusa? Perché mi costringevi. Il ritorno del Zaguaro, i grillini, i dieci saggi, Rubi che mostra un passaporto con scritto sopra Mubarak. Cosa serviva pure il ritorno dei Vitelloni? Va. E adesso fanno pure i video. Va, cabolla. Eh! Bule, bule, bule. Wadja, ma, wadja. Biede, chum, biede, chum. Wadja, ma, i get you.